Buonasera, benvenuti e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Si è svolto questa mattina l'incontro sul raddoppio ferroviario della Roma Pescara che ha visto confrontarsi Regione, Rete Ferroviaria Italiana e i sindaci dei comuni attraversati dalla ferrovia. Accolta con riserva la proposta del sindaco di San Giovanni Tetino che oltre al progetto della ferrovia interrata ha presentato una seconda proposta. Vediamo quale nel servizio di Selenia Secondi. In attesa del dibattito pubblico che si terrà il 25 febbraio Rete Ferroviaria Italiana stamane ha ascoltato le proposte dei sindaci dei territori coinvolti dal raddoppio ferroviario della linea Roma Pescara che puntano a scongiurare espropri e abbattimenti di palazzine con la proposta di interrare la ferrovia. Un incontro di oltre due ore al quale in rappresentanza di RFI hanno partecipato l'ingegneri Marco Marchese e Andrea Borgia, quest'ultimo dovrà occuparsi della gara d'appalto. Decisiva sarà però la relazione della coordinatrice del dibattito pubblico per le opere condivise, Yolanda Romano, presente in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture. Entro 45 giorni dovrà ascoltare le istanze dei territori e redigere un parere da inviare alla conferenza dei servizi. Insistiamo con l'interramento o diamo anche un'altra alternativa, oggi abbiamo mostrato anche un altro tracciato, anche se per adesso provvisorio, un tracciato che va proprio a spostare sotto la collina tra San Buceto e San Giovanni la linea ferrata, liberando completamente quello che oggi è un peso che purtroppo ci sta schiacciando e togliendo veramente questa spina nel cuore che ci sta facendo male. L'equilibrio va trovato e è sempre molto complesso, non è un lavoro facile, è quello che cercheremo di fare, lavorando tutti insieme, è chiaro che quello che noi abbiamo raccomandato e continuiamo a chiedere a RFI è di valutare e anche predisporre le soluzioni alternative, le varianti, le diverse valutazioni sulle diverse possibilità di tracciato e di intervento, in modo che la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni possa avvenire in maniera consapevole, documentata e trasparente e per finire anche in maniera partecipata. Entro giugno poi dovrà concludersi l'iter per non perdere i fondi del PNRR con i quali vengono finanziati due lotti Interporto Manoppello e Interporto Scafa. L'altra linea ferroviaria che riguarda invece Chietti e San Giovanni e Teatino dovrà essere finanziata da fondi ministeriali. I problemi ci sono per Chietti, Chietiscalo e San Giovanni e Teatino, dove la proposizione mia e del sindaco di San Giovanni è stata accolta con riserva. A pochi giorni dalla conferenza stampa del presidente della società di trasporto unico abruzzese Gianfranco Giuliente è arrivata la replica dei sindacati. Per le segreterie regionali c'è bisogno di un bando dove tutti possano partecipare senza limiti di età e anche chi ha lavorato già con l'azienda. Ce ne parla Stefano Ricanati. Il nuovo piano di assunzione della tua alla base delle divergenze che in queste ore si stanno verificando tra l'azienda di trasporto unico della nostra regione e i sindacati. Per le segreterie l'assunzione di 127 operatori da smaltire nelle annualità 2022-2023 sono del tutto legittime da parte dell'azienda ma c'è bisogno di un nuovo bando per dare a tutti, specialmente a chi ha lavorato in azienda come interinale, di poter migliorare la propria posizione. Questo bando non deve prevedere penalizzazioni in termini retributive e contrattuali per questi lavoratori che si sono già formati nel tempo. Questi non hanno bisogno di avere un percorso formativo. Quindi è inaccettabile, intollerabile che ci siano penalizzazioni retributive e salariali. E' la vostra richiesta per riaprire un confronto proprio con l'azienda? Guardi, la nostra richiesta è da due anni quella di assumere personale. Lo abbiamo fatto attraverso quattro scioperi. Ci sono oggi, mentre parliamo, tre vertenze aperte in Lanciano, Pescara e Teramo. Mentre parliamo saltano corse. Dal primo al 31 gennaio sono state soppresse 136 corse per carenza di personale. Se questa è la tua che rispetta gli accordi, noi capiamo benissimo il nervosismo di Giulianti, ma i cittadini e i lavoratori aspettano risposte. Il continuo ricorso all'interinale è l'altonato da sciogliere. Per i sindacati queste figure vengono utilizzate per coprire turni gravosi. Noi sappiamo per certo che questa cosa sta nei limiti della legalità. Invece questa azienda continua in perterri da utilizzare questa interinale. Il problema è incentrato tutto qui, perché l'azienda vorrebbe che noi firmassimo un accordo dove i neoassunti avessero lo stesso trattamento degli interiniali, ancorché secondo noi illegittimi. Sotto la lente di ingrandimento delle sigle sindacali non solo i lavoratori, ma da qualche tempo è finito anche il bilancio della stessa azienda di trasporto. Con la passata amministrazione tu aveva 1.600 dipendenti, oggi i tuoi ne sono scarsi 1.300, non erogava un premio di risultato a tutti i dipendenti di un valore di 1.400.000 euro, oggi non viene dato più e per di più vengono date delle subconcessioni dove l'azienda tua da subappaltatore ricava 50 centesimi a chilometro a differenza della prima amministrazione. Quindi mi corre l'obbligo, se noi le sovrapponiamo queste due cose, vedere che effettivamente la tua sarebbe abbondantemente sotto il passivo. Il bollettino Covid sono 2.064 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 986 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma dei 6.764 tamponi molecolari e dei 15.238 tamponi antigenici, è pari al 9,38%. Continuano ad aumentare i ricoveri complessivi, seppure a fronte di una sensibile riduzione di quell'interapia intensiva. Quattro i decessi recenti. Il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 2.855 e di nuovo record di guariti che nelle ultime ore sono oltre 4.000. I nuovi positivi hanno età compresa tra due mesi e 104 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 112.534, 2.172 in meno rispetto a ieri. Del totale 535 pazienti, se in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, mentre 28, 3 in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. Gli altri 111.971 positivi accertati, 2.175 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime 24 ore, come detto, sono oltre 4.000, per l'esattezza 4.214, mentre i quattro decessi riguardano pazienti d'età compresa tra 78 e 92 anni, di cui due in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo e uno della provincia dell'Aquila. Dei casi odierni, 468 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 578 a quella di Chieti, 435 al Pescarese e 490 al Teramano, mentre 24 dei positivi provengono da fuori regione e per 51 contagiati sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E ancora niente richiesta al Governo di estendere il Super Green Pass agli artisti, al personale artistico e di accoglienza dello spettacolo. La Conferenza delle Regioni, secondo quanto si apprende, ha deciso di rinviare la questione che era stata proposta dalla Commissione Cultura, condividendo l'approccio del Governo di non agire per singole categorie di lavoratori, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di vaccinazione, ovvero insegnanti, operatori sanitari, forze dell'ordine, se dovesse cambiare il quadro, la questione potrebbe tornare di nuovo sul tavolo della conferenza. Andiamo avanti con il nostro giornale, la nuova rigenerazione urbana della città di Pescara passa anche dal nuovo porto, dalle nuove opportunità, si è parlato questa mattina all'Exaurum in un convegno dal titolo Nuovo Porto di Pescara e il Waterfront. Confcommercio, unitamente ad esperti del mondo dell'università, dell'economia, oltre ad esponenti politici e delle istituzioni, hanno affrontato il tema del nuovo porto di Pescara. Tra le opere da riqualificare, le banchine, le case dei pescatori e il nuovo asse attrezzato che andrà a collegarsi direttamente con il porto. Tutto questo, se va pensato soltanto in forma unilaterale, io credo che debba essere pensato tra più attori. Per realizzare questo c'è bisogno di capacità, di conoscenza sui waterfront che hanno fatto in altre città, vedi il waterfront di Palermo, vedi il waterfront di Genova, vedi il waterfront di Pantelleria, quindi ci sono esperienze in passato che hanno dato lustro. Certamente una rigidazione urbana fatta con le dovute opportunità riconquista anche il territorio sotto l'aspetto delle imprese, ecco perché Confcommercio oggi è presente. Il waterfront è la nuova era delle città sul mare e l'occasione per la realizzazione potrebbe venire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una volta costruito il porto noi avremo i collegamenti con la Croazia, chiaramente a ridosso del porto ci saranno infrastrutture alberghiere, ricettive, commerciale, basta che uno arrivi in vacanza, scende davanti a un porto e si rende conto che si trova appena si sbarca. Il nostro porto purtroppo da dieci anni vuoi per l'indragaggio, vuoi perché c'è stata poca attenzione, è fermo e sta diventando un ghetto, invece dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la città di Pescara. La notizia che vede già pronto il piano per ripristinare i collegamenti con la Croazia a partire dalla prossima estate lascia ben presagire, ma al contempo non si possono chiudere gli occhi a quelle che sono le problematiche dovute all'insabbiamento. Questo è un problema oramai annoso per il nostro fiume, per la nostra città, un porto statale che da troppo tempo è chiuso perché è stato trascurato dal livello nazionale, ci siamo rimboccati le maniche per dare un aiuto alla marineria, quindi abbiamo fatto la gara, siamo lì per fare gli interventi, ma sul porto la situazione si chiuderà nel momento in cui finalmente si collegherà il molo nord alla diga foranea, si collegherà il molo sud alla diga foranea in modo da permettere un'uscita diretta del fiume verso il mare. Proseguiamo con la cronaca, faceva parte di una banda con altri componenti già identificati che proponevano su noti siti online la vendita di biglietti per assistere a concerti di cantanti famosi che poi una volta pagati questi biglietti non sarebbero mai stati consegnati ai malcapitati clienti. Una donna italiana, residente della Marsica, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Tagliacozzo con l'accusa di associazione e numerose truffe messe a segno in tutto il territorio nazionale. La donna è stata condannata alla pena definitiva di tre anni e sei mesi di reclusione e è stata rinchiusa nella casa circondariale di Castronio, Teramo. I fatti si riferiscono a prima del covid a far scattare le indagini decine di truffati che hanno sporto denuncia consentendo ai carabinieri di Tagliacozzo e di altre province italiane di raccogliere indizi di reato a carico della donna arrestata. E a Teramo ci sarebbe un allarme microcriminalità. Le zone più colpite da questo fenomeno sarebbero i quartieri periferici e le frazioni. Il deputato della Lega Antonio Zennaro punta il dito contro l'amministrazione comunale che secondo lui minimizzerebbe questo problema mentre il sindaco d'Alberto non è d'accordo e ovviamente replica che la città pur vivendo disagi comuni al resto del paese è più che sicura. Ce ne parla Tania Bonicicastelli. Un'ondata di furti con scasso nelle periferie e nelle frazioni di Teramo sta preoccupando e non poco cittadini e forze dell'ordine. Le zone maggiormente colpite sono San Nicolò, Villa Mosca, Collatterrato, ma anche i quartieri della Cona e di Fonte Baiano. Nella frazione di Forcella in particolare poi i casi si stanno moltiplicando di ora in ora. I furti avvengono spesso di pomeriggio e c'è qualcuno che riceve i ladri anche due volte al giorno. I residenti, scoraggiati dalla situazione, si stanno organizzando in ronde. Purtroppo a Teramo da affrontare non c'è solo il problema dei furti. In centro storico, durante i fine settimana, bande di giovanissimi, spesso ubriachi, danno vita a risse sanguinose e a schiamazzi violenti fino alle prime luci dell'alba. Sul tema è intervenuto il deputato ex 5 Stelle, oggi della Lega, Antonio Zennaro che invita tutti a porsi interrogativi seri sul tema della sicurezza nel capoluogo aprutino. La rapida successione di episodi di microcriminalità che si sta verificando a Teramo sostiene Zennaro mette a rischio la tranquillità dei cittadini. Violenze che non sono un buon biglietto da visita, viste dall'esterno. È un errore minimizzare, come pare stia facendo l'amministrazione, conclude il parlamentare che ha chiesto un incontro al nuovo prefetto. All'attacco di Zennaro non ci sta il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, che sottolinea che nessuno può permettersi di cercare disperatamente di recuperare consensi giocando sull'immagine della città di Teramo e della sua comunità. L'attuale amministrazione comunale, scrive d'Alberto in una nota, non ha mai sottovalutato il tema della sicurezza e non può passare l'immagine di una città pericolosa perché Teramo non lo è. Gli ultimi episodi vanno ricondotti a problematiche attualmente comuni purtroppo a tutte le città italiane. Zennaro si adopera invece, conclude il sindaco di Teramo, affinché il governo adotti provvedimenti volti a rafforzare gli organici delle polizie locali. Evitare per due anni la chiusura dei tribunali cosiddetti minori con l'inserimento di un emendamento nell'attesto del decreto mille paroroghe e poi lavorare per rivedere la geografia giudiziaria. Sono queste le tappe per scongiurare la soppressione dei presidi di giustizia di Avezzano sul Mona, Vasto e Lanciano. Il servizio è a cura della redazione di Infomedia. Entra nel vivo la battaglia per la salvezza dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Sul Mona, Lanciano e Vasto. Dopo l'incontro con il ministro della giustizia Cartabia, i presidenti degli ordini degli avvocati e il governatore Marsiglio hanno partecipato ad un incontro con i parlamentari abruzzesi per discutere sulle prossime mosse da adottare per evitare la chiusura, ad oggi fissata al settembre 2022. La strada da seguire è quella di una proroga di due anni da presentare in un emendamento da inserire nel decreto mille proroghe. Da Marsiglio e dagli avvocati è partito il pressing sui parlamentari abruzzesi per l'approvazione dell'emendamento sulla proroga alla chiusura, un passo che consentirebbe, ha dichiarato Marsiglio, di affrontare nel merito l'eventuale proposta che verrà fatta dal ministero e dall'altro di farlo da una posizione di forza. C'è un dato concreto che va sviluppato, che va utilizzato, cioè l'impossibilità di Chieti e di L'Aquila di accogliere i tribunali soppressi, cioè Rezzano è sul buono da una parte e Lanciano è vasto dall'altra. Tra l'altro si deve aggiungere un elemento che è stato proprio dichiarato dalla ministra, cioè che le prorogative della legge, quella del 2011, quella relativa alle soppressioni, ormai sono cambiate, non è più il risparmio di spesa, ma l'efficienza. Se questo è il dato che occorre inseguire, è già raggiunto per i tribunali soppressi di Avezzano sul buono a Gianervaste perché sono notoriamente, almeno lo sono stati negli ultimi due anni, i più efficienti sicuramente dell'Abruzzo. Concessa la prologa, ci aspettiamo innanzitutto la riapertura delle piante organiche perché tutti e quattro i tribunali, per il fatto che non esistono più nei computers del Ministero, stanno soffrendo questa mancanza di dipendenti del Tribunale. E poi ci aspettiamo che in questi due anni si possa fare una sorta di comitato in modo da ridiscutere la geografia giudiziaria, comitato che già c'è, interparlamentare, quindi già c'è, quindi ampliarlo, ridiscutere nuovamente questi argomenti in modo da modificare la norma del 2011 che ha fatto quell'elenco di tribunali soppressi. I lavori svolti negli anni precedenti hanno portato la provincia di Teramo ad essere tra i migliori in Italia per quanto riguarda lo spreco d'acqua. La Ruzzoreti, nonostante un inverno secco, si dice, è fiducioso per la prossima estate, anche a seguito di quello che è successo nel 2021 con la terribile crisi idrica. Vediamo il servizio. Non c'è solo l'emergenza Covid a determinare grande preoccupazione per le zone rosse e così anche per le disponibilità idriche negativamente condizionate da un inverno fino a Ravaro di significative precipitazioni. La carenza idrica del 2021 in Abruzzo è un effetto combinato del riscaldamento globale che sta di anno in anno prosciugando i fiumi e della dispersione d'acqua. Si parla del 55,6% riferito al 2018 causata da una rete colabrodo cui non si è provveduto nell'ultimo trentennio. E se le province di Chieti e Pescara hanno pagato a caro prezzo, addirittura fino ai primi mesi attunnali, la crisi idrica decisamente meglio è andato per la provincia di Tenomo. Uno studio di confartigianato la posta tra le 15 migliori province italiane con il 27,3% di perdite idriche e tecniche rispetto al 42% della media nazionale. Un risultato possibile grazie agli investimenti mirati che la governance della Ruzzoreti ha messo in atto negli ultimi anni e che aumenta la fiducia in vista della prossima stagione estiva. Fortunatamente gli investimenti che noi abbiamo fatto sul territorio per quanto riguarda l'acquedotto ci hanno supportato lo scorso anno a gestire una situazione veramente molto pesante, infatti la provincia di Tenomo è quella che forse ha sofferto di meno di quelle che hanno anche la costa e quindi l'aspetto marittimo per cui il turismo. Quest'anno ci auguriamo di essere sempre allo stesso livello dato che gli investimenti sono aumentati e noi abbiamo il potabilizzatore che riusciamo di Montorio Alvomano che è un 800 litri d'acqua al secondo, quindi è di grande supporto, il Gran Sasso con tutta la gestione che ne connette, quindi siamo abbastanza fiduciosi. Certo è che è stato un inverno particolarmente duro sotto questo profilo perché è piovuto pochissimo, almeno fino ad ora. Anche a Pescara, come in tutta Italia, oggi si è reso omaggio alla figura di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, ucciso in un campo di concentramento, nel campo di concentramento di Dachau dopo aver liberato più di 5 mila ebrei. La Polizia di Stato ha reso omaggio nella giornata di oggi alla figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume e deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau dove fu deportato l'anno prima. Durante la sua permanenza a Fiume come funzionario di pubblica sicurezza, Palatucci si adoperò per salvare migliaia di ebrei dalle persecuzioni razziali, gesto che gli valse il riconoscimento di giusto tra le nazioni. Anche la città di Pescara davanti all'ulivo e alla targa in sua memoria ha ricordato quest'eroe che ha sacrificato la propria vita per salvarne altre. Giovanni Palatucci è stato un eroe, è stato ed è un eroe perché le sue idee continuano a camminare e noi vogliamo che le sue idee passino anche tramite le nuove generazioni e per cui ho dato l'incarico a questi studenti del liceo classico di approfondire la tematica del suo gesto. Gli eroi a volte sono inconsapevoli, io vedo una situazione paradossale, intervengo, ma lui era un eroe consapevole, lui sapeva che con le sue azioni che sono durate dal 1937 al 1944 avrebbe rischiato la deportazione perché poi essendo un funzionario di polizia conosceva bene quali erano i meccanismi della Gestapo e della soluzione finale di Hitler, quindi è un eroe consapevole possiamo dire ed è un eroe scomodo, mi è piaciuto leggere prima una lettera che lui ha fatto ai genitori in cui denotava il cattivo rapporto che aveva con le istituzioni e anche con i suoi superiori e diceva io sono diverso da loro, loro sono diversi da me, lo sappiamo, ci rispettiamo ma lo sappiamo e poi ha detto posso fare un po' di bene in quella lettera che ho letto prima, alludendo a quello che stava facendo, è chiaro che non potevo in quel periodo dire espressamente quello che accadeva anche perché si faceva la lettera, la lettera passava la censura, veniva spedita, ci metteva 15 giorni per arrivare, eravamo nel 1941 in questo caso, quindi è un personaggio che insieme a Salvo d'Acquisto secondo me sono gli eroi più cristallini che possono avere le forze di polizia in Italia. E ora la pagina dello sport con il calcio di Serie C, dopo il 3 rifilato al Gubbio è una classifica che vede il terzo posto a soli due punti, per il Pescara arriva il momento più duro del calendario, non solo il tour de force di 5 partite in 15 giorni ma anche gli impegni contro le squadre migliori del girone per la squadra di Auteri sarà una fase di verità, Andrea Costantini. Lunedì inizierà il ciclo di ferro del Pescara, 5 partite in 2 settimane, ma la cosa riguarda tutte le squadre del campionato che dovranno chiarire la consistenza dei biancazzurri e se ci sono concrete possibilità di ambire al terzo posto, come la classifica fa intendere visto il menù 2 dal Cesena materializzatoci dopo l'ultima giornata. Si giocherà tanto in poco tempo e per il Delfino saranno test altamente significativi, intanto perché saranno 4 trasferte su 5. L'unica gara in casa è lo scontro direttissimo contro un'entella in condizioni smaglianti e due di quelle trasferte saranno contro le dominatrici del girone, Reggiana e la neocapolista solitaria Modena. Se la gara contro l'undici di Tesser chiuderà il tour de force, quella contro la Reggiana la aprirà e il Pescara arriverà all'appuntamento col vento in poppa, forte di 9 risultati utili consecutivi, di una squadra che ha ritrovato convinzione e il cui attacco sta ora producendo con buona prolificità. Se fino al match con l'Ancona il Pescara non aveva mai segnato più di due reti, questo è accaduto in tre partite su quattro del 2022. L'unico mezzo passo falso è arrivato contro una carrarese che ha imposto il pari e meritava di più proprio la Reggiana. Si può obiettare anche giustamente sulla consistenza degli avversari, ma il gubbio dell'inizio stagione è in zona playoff e la Viterbese nelle ultime sette giornate ha preso gol solo dal Pescara e sta risalendo da una classifica deficitaria. Certo che i biancazzurri hanno però ancora tanto da dimostrare e misurarsi intanto contro l'imbattuta Reggiana e poi con l'ispirata Intella aiuterà a capire la dimensione reale della squadra di Auteri. Reggiana che d'altro canto avrà Rossi e Rozio squalificati e affronterà il posticipo con molta pressione addosso dopo aver lasciato il primato al Modena e dopo una partita come quella dello Stadio dei Marmi a tratti in affanno, specie nel primo tempo. Con il recupero di delisio Auteri avrà quasi l'intero organico a disposizione, resterebbero da verificare le condizioni di Memusciai e Chiarella, la coppia Pontisso-Pompetti in mediana ha dato garanzie, in avanti Rauti e Ferrari appaiono intoccabili, il balottaggio sembra quello tra Dursi e un clemenza rilanciato dal bel gol al gubbio. In difesa Auteri dovrà decidere se riproporre il giovane Veroli o se schierare un reparto più esperto confermando Ierardi nel trio davanti Sorrentino. D'altro canto Diana, che ha una rosa profondissima, ha intanto il dubbio del modulo poiché alterna 4-3-3 e 3-5-2. Dovrebbe recuperare Cigarini, uscito malconcio da Carrara e spera di riavere in difesa Cremonesi. Tornerà Zamparo dal primo minuto, a Carrara il possente centroavanti, 12 reti finora, ha trovato il gol appena entrato in campo. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri di Asti. Passiamo alla Serie D. Dopo una lunga sosta forzata a causa del Covid, il Castelnuovo torna in campo ma viene superato a domicilio dal Vasto Girardi per 2-1. Per la squadra del Vomano la classifica si fa sempre più complicata. Il Vasto Girardi espugna il comunale di Castelnuovo e si aggiudica il recupero della 17esima giornata di andata. L'1-2 finale sa di rivalza per il Vasto Girardi che qui aveva perso 3-0 in Coppa qualche mese fa. Dopo l'emergenza Covid, a distanza di 47 giorni, torna in campo il Castelnuovo Vomano. La formazione nero-verde ampiamente rimaneggiata dopo le sessioni di mercato invernale si schiera con un insolito 3-5-2 con la coppia offensiva formata dal duo Emili-Vegidio. Previsto per domenica prossima gli esordi dei nuovi arrivati Bubalo e Colì. Nessuna novità sul fronte molisano con Prosperi che si affida agli stessi che hanno pareggiato per 1-1 contro la Vastese. Dopo una prima fase di studio a rompere gli indugi la formazione di casa. Fraseggio centrale con Emili a premiare l'inserimento di Foglia ma il tiro del centrocampista a botta sicura termina fuori. Il Castelnuovo fa la gara ma il Vasto Girardi un po' a sorpresa a trovare il vantaggio. Tutto si sviluppa sul settore di sinistra con l'imprendibile Guida che lascia sul posto il diretto avversario. Poi con un po' di fortuna la sfera arriva sui piedi di Alagia, bravo di prima intenzione a mettere alle spalle di Natale. Quarto centro per l'attaccante in questa stagione e sul risultato di 0-1 termina anche la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa subito episodio da Movioli in area alto molisana. Foglia entra a contatto con Montuori ma per il direttore di gara e simulazione doppio giallo per il centrocampista che lascia il campo anticipatamente tra l'incredulità dei pochi presenti. Il Castelnuovo con la forza della disperazione prova una reazione seppur timida. Sgroppata sull'out di Sanseverino, il migliore dei suoi che nel tentativo di mettere dentro per poco non trova la deviazione vincente da parte di un difensore ospite. Ma è un fuoco di Paglia, ancora un errore in fase di uscita, uno dei tanti in stagione nei Neroverdi, mette nelle condizioni Guadalupi di involarsi verso la porta e dal limite dell'aria fulmina Natale con un terra aria che incoccia il palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. Autentica doccia gelata per i padroni di casa che ora sono sotto di due golle di un uomo. I Neroverdi trascinati da De Gidio provano a rientrare in partita al ventesimo ma la conclusione del numero 7 sfiora di poco il palo alla sinistra di Di Stasio. Il vasto Girardi forse appagato dal doppio vantaggio si adagia. Così il Castelnuovo al quarantesimo rientra in partita e il solito De Gidio a tentare questa volta dalla distanza siderare la conclusione trovando l'infortunio del portiere che non calcola il rimbalzo e si fa scavalcare dalla sfera. Il finale è un monologo nero-verde ma nei tre minuti di recupero la squadra di Di Fabio non riesce ad avere lo spunto decisivo per pareggiare la sfida. Ora la classifica si fa sempre più preoccupante per i deramani mentre il vasto Girardi vede sempre più vicina la griglia dei playoff. E a proposito di Serie D, novità riguardo le panchine. Ufficiale il ritorno di Amaulo a Pineto mentre a Notaresco il patron di Giovanni conferma Epifani per un progetto tecnico che seppur leggermente deficitario è in linea con quanto la società aveva come obiettivo ad inizio anno. Jacopo Forcella. Panchine al centro dell'attenzione in Serie D per un Pineto che cambia, un notaresco che invece conferma la fiducia al proprio timoniere. Ufficiale in casa biancazzurra l'esonero di Marco Pomante e il ritorno di Daniele Amaulo. Risultati evidentemente non soddisfacenti della squadra hanno suggerito al presidente Silvio Brocco di richiamare l'allenatore marchigiano a distanza di quasi un anno dalla debacle di Castelfidardo con conseguente addio nelle ore successive per promuovere proprio Pomante all'ora tecnico delle giovanili fino alla prima squadra. Un ritorno al passato che vorrà dire anche parziale trasformazione di un organico già costruito e ristrutturato in corso d'opera e che non avrà Marco Ciarcelluti che saluta e va all'angolana. Chi invece pur con risultati non eccelsi sceglie una strada diversa, quella della continuità, il notaresco con il patron Salvatore Di Giovanni che si dice deluso dai risultati fin cui raggiunti senza riuscire a spiegarsi il perché di questa involuzione di queste prestazioni altalenanti. Allo stesso tempo continua il massimo dirigente vorrei far notare che comunque sin dall'inizio del campionato stazioniamo tra le prime posizioni tutto questo però non inficia la stima e la fiducia, si legge nella nota della società verso Massimo Epifani. Un vero professionista conferma Di Giovanni, grande lavoratore, persona seria e preparata e per me in primis ma per la società tutta rappresenta una garanzia sotto l'aspetto tecnico e gestionale. L'obiettivo iniziale, conclude, era quello di disputare un campionato di vertice e di lottare fino alla fine per qualcosa di molto importante e ad oggi, anche se con un leggero ritardo, siamo in linea con le aspettative iniziali. Domenica intanto sarà tempo di riscatto per le due formazioni, due sfide interne Aurora Alto, Casertano per il Pineto, Nereto per il Rosso Blu per rimettersi in marcia in vista di obiettivi che a questo punto saranno confermati solo strada facendo e solo con il supporto dei risultati. Grazie a tutti.